Grande fratello, Alfonso Signorini mostra a sorpresa le prime immagini della nuova casa, ma è stata così, il grande fratello è ad un passo dalla sua ripartenza, infatti lunedì 16 settembre si darà il via alla nuova edizione. E Alfonso Signorini ha fatto vedere le prime immagini della nuova casa, scegliendo Pomeriggio 5 di Mirta Merlini. Attraverso un video mandato in onda dalla trasmissione, Alfie si è mostrato proprio mentre si trovava nella residenza dei futuri Geffini, ormai il pubblico sta facendo il conto alla rovescia per rivedere all'opera il grande fratello. E Alfonso Signorini ha voluto far emergere le prime immagini della casa. Ricordiamo che a supportarlo in studio ci sarà la riconfermata Cesara Buonamici, ma ci sarà anche una seconda opinionista, ovvero Beatrice Luzzi. L'esperta social sarà nuovamente Rebecca Staffelli. Grande fratello, Signorini mostra le prime immagini della casa. Dunque, parlando del grande fratello dal 2024 al 2025, Signorini ha scelto Mirta per darle in anteprima le prime immagini della casa più spiata d'Italia. Alfonso ha esclamato nel filmato, queste sono le primissime immagini della casa che è ancora in costruzione. Caschetto obbligatorio a norma di legge, intanto godetevi questo. Però è una casa completamente nuova, enorme. Una roba che neanche Rockefeller l'aveva. Poi Signorini ha aggiunto sulla dimora del GF, noi siamo pronti o quasi, state connessi perché ogni giorno ci saranno un sacco di novità. Restate connessi, ciao. Io torno al lavoro, e il video si è interrotto così. Se dunque intravista la casa, che è ancora in divenire. Infatti, verrà completata nei prossimi giorni prima dell'avvio del reality show di Canale 5. In questa settimana dovrebbe fornire ulteriori informazioni sulla casa, poi non resta che conoscere i nuovi concorrenti, che anche quest'anno saranno sia VIP che NIP.